Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti nel mio canale, questa è la prima volta che parlo, quindi mi è tempo un po' emozionata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Allora questo qua è uno dei nostri set, mi piace tantissimo, è l'outfit ancora di tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Wow Grazie a tutti Grazie a tutti Allora siamo arrivati qui per registrare Run BTS Questo è il posto che abbiamo scelto per questa canzone e sinceramente mi piace molto come è fatto, mi sembra elegante ma allo stesso tempo comunque abbastanza semplice Grazie a tutti 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 Grazie a tutti